E' stata annullata la determinazione della città metropolitana di Messina del 14 settembre 2023 con cui è stata disposta la giudicazione per la procedura di affidamento della progettazione ed esecuzione degli interventi di messa in sicurezza dell'edificio scolastico Archimede di Messina. Così hanno deciso i giudici della seconda sezione del Tar di Catania accogliendo il ricorso proposto da Eurovega SRL rappresentata dall'avvocato Francesco Migliarotti contro la città metropolitana di Messina rappresentata dall'avvocato Fabio Sfravara, l'assessorato regionale infrastruttura e mobilità, l'Urega, sezione territoriale di Messina, la presidenza del Consiglio dei Ministri e il Ministero dell'Istruzione e del Merito. L'impresa, nei cui confronti è stato prospettato il ricorso per chi è giudicatario della procedura di gara, è stata rappresentata dagli avvocati Alessio Papa e Antonio Sottile. Eurovega aveva impugnato il verbale di gara con cui la Commissione aggiudicò l'appalto e quello con cui la stessa Commissione non dispose l'esclusione della ditta giudicataria, poi la determinazione della città metropolitana di Messina con cui si dispose la giudicazione e la nota della Commissione di gara con cui è stata rigettata l'istanza di adozione di provvedimenti in autotutela presentata dalla Eurovega. Quest'ultima si è classificata seconda della procedura di gara. L'amministrazione regionale e le amministrazioni centrali si sono costituite in giudizio e hanno eccepito il loro difetto di legittimazione passiva. Per la prima l'eccezione è stata accolta, ma non per la seconda. La città metropolitana di Messina ha chiesto il rigetto del ricorso. Per il Tar merita accoglimento e ricorso introduttivo, ma non quello incidentale e da qui sono state annullate la determinazione della città metropolitana di Messina con cui è stata disposta la giudicazione della gara e la nota della Commissione di gara con cui è stata rigettata l'istanza di adozione di provvedimenti in autotutela presentata dalla ditta ricorrente il 6 ottobre 2023.